La demonologia è lo studio delle credenze riguardanti spiriti e demoni, o più specificatamente parlando, riguardanti Satana e i demoni. Queste credenze, per l'appunto, possono essere diffuse all'interno di tradizioni religiose oppure popolari e consistono proprio nella convinzione dell'esistenza di alcuni esseri sovrannaturali, malvaggi e potenti, in grado di influire sulle vicende umane. Si affianca al ramo dell'angeologia, che come da nome assume il significato dello studio degli angeli, mentre invece i demoni rappresentano in molte culture entità infernali suddivise in gerarchie definite legioni, dove ogni demonio è dotato di caratteristiche peculiari, le quali sono diverse e hanno differenti funzioni e capacità, soprattutto all'interno delle credenze nelle quali si ammette l'azione del mondo umano e l'interazione con esso. Questi demoni possiedono un proprio aspetto e un proprio sigillo, utile soprattutto all'operatore dell'occulto, che si serve dei propri poteri per scopi personali, come può essere la magia nera e così via. Particolarmente sviluppata nella tradizione cristiana, la demonologia riguarda le creature che avrebbero peccato contro la dignità cristiana, in origine definite angeli quindi. E come scrisse Pietro, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma bensì li precipitò negli abissi dell'inferno, serbandoli per il giudizio, i quali questi angeli caduti sarebbero guidati da Lucifero. Mentre invece San Tommaso espresse la sua opinione riguardo all'esistenza di queste creature e la l'influenza sulla psicomana, affermando che il demonio esisterebbe e potrebbe influire sull'intelletto umano, plasmandone le sue varie forme immaginative. Mentre invece la demonologia vera e propria era pressoché assente nel mondo ebraico-cristiano dei primi tempi, poiché essa veniva per lo più menzionata nelle varie opere letterarie come i Grimori e l'Art Goezia, che non solo costituiscono lo studio, ma anche i vari metodi di invocazione dei demoni e l'utilizzo delle amagenzie. E due dei Grimori più celebri riguardanti i propri demoni e la demonologia sono sicuramente quelli della chiave di Salomone e della piccola chiave di Salomone, che si vocifero se non stati scritti da Re Salomone in persona, però nonostante ciò ancora oggi vi è un gran dubbio sull'autenticità appunto di questi scritti che vengono spesso accostati alla figura del re d'Israele. Tuttavia i rabbini scoraggiavano i fedeli dall'uso di queste pratiche occulte della magia nera e della magia in sé, poiché erano pericolose e li incitavano a non cadere in tentazione e a comportarsi bene, in modo tale appunto di rimanere sempre nella grazia di Dio e non avvicinarsi mai a Satana o ai demoni in generale, ecco. Lo stesso Salomone, nel suo Testamento di Salomone, quando era in punto di morte, ricorda con dolore la propria idolatria, che per l'appunto attribuisce a influenze demonie, dilungandosi in una trattazione demonologica. I riti voodoo fanno parte integrante della religione voodoo e questi ultimi rappresentano l'essenza stessa della magia voodoo antica che deriva dall'Africa. Occorre quindi ricordare che il voodoo è innanzitutto una religione antica, una fede che anche oggi conta quasi 60 milioni di credenti in tutto il mondo. I sacerdoti e le sacerdotesse voodoo operano moltissimi riti voodoo, poiché, come numerose religioni antiche, anche il voodoo ha i propri cerimoniali e i propri riti di magia, così come nelle altre religioni. I riti voodoo quindi rappresentano la massima potenza della magia, perché fanno ricorso ed evocano spiriti voodoo molto potenti, i loa. Ma al di là delle varie sette voodoo diabolie che possiamo leggere in giro per il web e che seguono vari riti voodoo malefici, in realtà il voodoo è una religione positiva dove coloro che la praticano trattano quasi esclusivamente i riti di magia bianca per invocare la salute, protezione e buona sorte, e pensare che oltre 60 milioni di credenti voodoo siano dediti alla magia nera attraverso i riti voodoo malefici. Il culto voodoo ha origine tradizionalmente della diaspora africana avvenuta nel XVI secolo e trova l'attuale collocazione nel voodoo di Haiti e New Orleans. Si tratta quindi di un culto sincretistico, in quanto combina elementi sia ancestrali sia elementi del cattolicesimo. Il riti voodoo in realtà veniva compiuti già nell'antichità romana, quando questo elemento simbolico, ossia la bambola, era chiamata colossai e realizzata con componenti di metallo maleabili. Il culto voodoo, nella sua versione moderna, sorge intorno al XVIII secolo ad Haiti, durante la colonizzazione dell'isolata parte dei francesi. Qui vennero condotti numerosi schiavi, proprio importati dall'Africa, e si fusero nel tempo con la religione cattolica praticata proprio dagli indigeni. E da tale integrazione trarì dunque origine il voodoo, dal quale poi si sviluppano le pratiche di magia bianca o nera, con le bambole, che dal culto traggono il nome di bambole voodoo. Il culto originale prevede però sacrifici animali, come possono essere galli, maiali, tori, eccetera, nei quali alle vittime si chiede il consenso, tramite un'accettazione del cibo offerta a loro. Lo scopo del culto voodoo è comunque quello di chiedere alla divinità o spiriti di intercedere per arrecare effetti benefici o malvagi, quindi si parla di magia bianca o di magia nera, alla persona destinataria. Pertanto le figure determinanti per la pratica del culto sono le divinità voodoo, sia di gira africana, iloa, e affiliate molto spesso alle figure religiose del cristianesimo, come ad esempio i santi. Nessuna magia di per sé buona o cattiva, infatti la finalità che si intende di conseguire colorerà il rituale magico in un colore che può essere, come abbiamo detto recentemente, una magia cattiva, in quanto richiama l'oscurità, oppure bianca, quindi magia buona ed è tradizionalmente legato alla luce. La magia di TV2 hanno carattere positivo in generale e in origine. La brama di potere che coglie, chi prende ad eseguire rituali di questo tipo, può facilmente corromperne il proprio animo. Però vi è una convinzione erroneamente diffusa, ovvero nel credere che le bambole voodoo e il culto voodoo stesso siano associate a un puro strumento di magia nera. L'unigine, infatti, di questa sorta di religione ci ricorda come il voodoo sia sorti inizialmente per scopi benefici, quindi si parla di magia bianca. E in effetti il voodoo ha attraversato tre secoli di persecuzioni e mistificazioni e fu fortemente screditato e di cui sono state diffuse molte illazioni che hanno condotto ad una versione distorta proprio dell'argomento, soprattutto attraverso il cinema. Come tutte le origine antiche, anche il voodooismo ha numerosi cerimoniali, legati proprio alla magia e particolarmente vasto sembra essere anche l'arsenale della magia distruttiva o nera. Per quanto però non esistano prove dell'efficacia di tali magie appena dette, non vi possono essere dubbi sulla presa di queste superstizioni sul popolo. Perfino i François, i Duvalier e il presidente a vita di Haiti dal 1957 al 1971 riuscì a tenere a Haiti nella morsa della paura, spacciandosi proprio come la reincarnazione dell'entità demoniaca di Samedi, in grado di scagliare potenti maledizioni. Pertanto affermò che la morte di John Fitzgerald Kennedy era dovuta ad una sua maledizione, esò i ton ton per far sparire gli avversari politici.